Ciao, sono Stefania di Mondi Nascosti, benvenuto nel nostro canale Mondi Nascosti del negozio dedicato al fantasy e al gotico. Oggi ti voglio presentare due fate spose della collezione Les Alpes. Come puoi vedere sono due bellissime statuine alte all'incirca 24 cm, una del colore azzurro che ci ricorda la lealtà e l'altra del colore rosa dove le ali nella parte retro sono tendenti al viola che il colore rosa ci ricorda l'amore. Poi puoi vedere come i bouquet di fiori sono rappresentati anche alla base del vestito rispetto a quella azzurra mentre per quella rosa i fiori sono riportati anche a terra. Sono molto curate nei dettagli e sono del marchio Les Alpes. Le puoi trovare su www.mondinascosti.it Ciao e alla prossima!